Ora è ufficiale, dal 27 dicembre prossimo cominceranno le vaccinazioni Pfizer in tutta Europa, ma nel frattempo sappiamo che circola anche in Italia la cosiddetta variante inglese del coronavirus, che è molto più contagiosa. Lei però ha detto che i vaccini funzioneranno ugualmente. Cosa glielo fa pensare? Ma guardi, effettivamente la variante inglese ha una mutazione in una delle sei posizioni, chiamiamole così perché tutti possano capire, che fanno parte proprio del punto chiave del contatto tra il virus e il recettore della cellula ospite, delle nostre cellule. Ma non credo che questa cosa possa essere sufficiente, per fortuna non sono solo io a non crederlo, che questa cosa possa essere sufficiente per non far funzionare i vaccini che sono stati tarati per i ceppi che erano maggioritari nella fase precedente a questa della cosiddetta variante inglese. I vaccini quindi funzioneranno. Questo al limite è un bel elemento che ci serve per ricordare che dobbiamo essere capaci di seguire con attenzione le variazioni di questo virus. Cosa che in Europa e in Italia andrebbe perfezionata. Professor Galli, ma per rilevare questa variante inglese più contagiosa, vanno ancora bene i nostri test che stiamo facendo o ce ne vorranno di altri? E le misure restrittive dovranno essere più severe, visto che è più contagioso? Allora, sostanzialmente sì, vanno bene i test perché alla fin dei conti questa variante potrebbe crearci qualche problema diagnostico per, chiamiamolo il gene S, la gente non sa che cos'è però è uno dei tre geni che vanno valutati perché sono state perse due basi che possono essere importanti per andare a vedere questa cosa qua. Ma non basta per inficiare il resto del test. Quindi alla fin dei conti, tra l'altro di varianti con la delezione 69-70, mi spiace parlare in questo modo, ma insomma se sto a spiegare ogni cosa in maniera zigogolata non si arriva più al concetto, ne avevamo già in circolazione diverse in Europa. Quindi da questo punto di vista non è un problema. Dal punto di vista dell'aspetto delle misure, beh, questa è una variante che è certamente un po' il bullo del quartiere, l'ho già detto e qualcuno mi ha criticato. Cioè è capace di essere particolarmente contagiosa, ma anche la prima che ci ha creato problemi in Italia non scherzava per niente come capacità di contagiosità. Il sistema da utilizzare è sempre quello, dobbiamo avere tutte le prudenze del caso per evitare di avere una diffusione dell'infezione. E non lasciarci troppo prendere la mano, beh, guardi, per tutto il tempo necessario finché i vaccini ci saranno e funzioneranno, voglio dire, e daranno una riduzione sempre più marcata del numero delle persone suscettibili all'infezione e quindi della possibilità del verificarsi di nuove infezioni, soprattutto in persone che possono avere condizioni caratteristiche tali da finire in ospedale.